ciao ragazzi sono tornato con le ricette del gardo in esclusiva per vino.com oggi facciamo tagliatella alla romagnola tagliatella al ragù tagliatella della torre uova gialle macinato con polpa di suino brado e polpa di scottola tutti gli ingredienti devo mettere nella pentola soffritto cipolla sedile o carota due fogli d'alloro un po di aglio un po di burro un po di olio facciamo a soffriggere puntiamo la polpa e andremo a sfumare col vino che avremo oggi degustazione in abbinamento alla tagliatella piazza del prete prima di montalcino 2015 un vino di estrema eleganza di grande carattere un bel color rosso rubino profumi netti di visciola queste sfumature di alloro mentolato a gusto piacevole teso croccante con le belle tannine un finale leggermente aggomato dopo che il ragù avrà bollito per tre quattro ore questo sarà il nostro risultato andiamo a buttare giù la terretella in acqua bollente sale bella bollente aspettiamo qualche secondo che riprende bollore ne andremo a aprire e poi andremo a saldare nella nostra padella con ragù ragazzi guardate qualche bella tagliatella che texture tutta la romagna le uova gialle belle parmigiano cascata e via è pronto la stagliatella